che succede? che succede? che succede? dovemo smontare subito il ponte bisogna smontare il ponte si attacchi degli occhi no, vedi questo è la seconda punta ecco l'altro ecco l'altro dopo scrive l'articolo di Zenaro Rugiano posso citarla? questa è la seconda punta la punta che c'è la punta che c'è di Germetti su di 3-4 cm per estimare di 3 ma quale punta scusate? potete vedere quella punta prima e seconda visto che si infora rispetto all'arcata ma cosa succede? e si vede il crepo se vai di là all'inizio questa è la pizzeria ti vede il crepo perchè c'è lui che lo vuoi quindi deve essere il morsetto che ti esce vabbè è una brutta roba oddio brutta roba vedi che siamo per il ponte del Vigo e la porta via siamo 22 americani la fonte qui Ruggero non sta mica c'è vabbè dai mi fatti non ci fai mi fai